Massimo Scattarella, uno dei protagonisti del Grande Fratello 2010, si rompe il braccio in diretta, ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci. È stato dopo essere stato battuto a braccio di ferro che Massimo si è visibilmente fatto male. A forza di fare i duri, a volte ci si ritrova davanti a spiacevoli imprevisti.